Grazie a tutti per aver guardato il video. Abbiamo trattato di dipendenze nella prima puntata e di bullismo nella seconda puntata direttamente dall'Università di Arezzo. Nella terza continueremo a trattare il bullismo. Siamo quest'oggi direttamente dal bar La Meridiana di Arezzo che ringraziamo per averci concesso di registrare qui la nostra terza puntata in compagnia di Iaria B di Dottoressa e Cavaliere della Repubblica. Guarda, grazie. Intanto buongiorno, grazie per avermi invitato a questa trasmissione interessante. Ecco Iaria, la nostra missione è quella di contribuire nel creare anche una cultura che sin qui probabilmente non c'è mai stata. Ti chiedo da parte tua, a livello, dopo riguarderemo anche quello che ha detto la professoressa Romano settimana scorsa, a livello personale di cosa si tratta il bullismo? Il bullismo è una serie di comportamenti che possono essere sia diretti che indiretti. Sicuramente la professoressa Romano l'avrà spiegato molto meglio di me che praticamente mirano a danneggiare una persona e la cosa particolare che sono ripetuti nel tempo. Per esempio, cosa vuol dire il bullismo diretto? Vuol dire tutta quella serie di comportamenti tra cui insulti, atti anche fisici rivolti a un ragazzo o a una ragazza che sono appunto ripetuti nel tempo, tutti i giorni e comunque continuano. Mentre il bullismo indiretto è una cosa un po' più psicologica che generalmente è un comportamento che attuano più le ragazze, io purtroppo l'ho subito tutti e due, che tende a isolare, marginare e fare gruppo. Anche quello è nato di bullismo. Ecco, tu da anni stai combattendo appunto contro entrambe le fazioni del bullismo. Come è nata questa tua lotta? È nata perché tutto è iniziato sinceramente con un progetto che facevamo all'università, sul cyberbullismo proprio. La cosa mi piace talmente tanto, poi avendolo subito, sai, sia alle scuole medie che alle scuole superiori, che decisi di provare ad avviare questa campagna contro queste forme di violenza, di odio. Poi ho conosciuto la cooperativa sociale castiglionese e da lì abbiamo iniziato proprio un progetto da portare nelle scuole e in vari istituti per combattere questa piaga della società. Devo dire che per ora sta funzionando. Sta funzionando. Allora, prima di continuare con la nostra storia, direi di andare a sentire cosa ha detto settimana scorsa da dottoressa Romano in merito al bullismo e al cyberbullismo. Parlare di bullismo in realtà è un po' come parlare di tutto, però senza andare ad indicare qual è il fenomeno specifico. Quando io parlo degli immigrati, chi sono gli immigrati, insomma? In realtà con bullismo si intendeva che fino agli anni Ottanta qualsiasi forma di comportamento fisico, di violenza e prevaricazione agito nei confronti di un proprio pari, da un bullo nei confronti di un soggetto bullizzato, soprattutto all'interno dei contesti scolastici, dove per primi fu osservato questo tipo di comportamento, già appunto a parte dagli anni Settanta e dagli anni Ottanta. Direbbero i nostri nonni che in realtà i ragazzi più violenti ci sono sempre stati, quelli che erano un po' più agitati, ma oggi il problema è il carattere pervasivo. In tutte le aule si conta che in qualche modo si sono stati degli episodi di violenza. Questi sono dati che ce li dicono le statistiche che stanno studiando il fenomeno e che, mi riferisco al census, ma anche addirittura a dei progetti che sono specificamente finanziati proprio per la prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. C'è stato uno finanziato dall'Unione Europea molto grande nel 2013 che ha coinvolto oltre l'Italia anche diverse nazioni e che era volto proprio accogliere quali sono le principali caratteristiche che si possono accompagnare al fenomeno, soprattutto rispetto ai protagonisti. Oggi noi diremmo che il bullismo in qualche modo è una categoria che ha a che fare con una dinamica disfunzionale e relazionale che si viene a creare all'interno del gruppo dei pari. Il cyberbullismo è la forma più diffusa e anche l'hating, cioè l'odio online. Quindi sono i due, come dire, se vogliamo dire il bullismo 4.0, non so se rende insomma. Cioè l'idea, il bullismo nel 2019, più ancora che essere soltanto comportamento agito, è un comportamento agito online. Si contano insomma diverse decine di suicidi in adolescenti, tra i 15 e i 18 anni anche in Italia abbiamo avuto diversi casi legati proprio alla difficoltà di parlare. Perché un soggetto bullizzato sente di non poterne parlare? Perché si sente isolato? Cioè sente che il gruppo dei pari non è dalla sua parte, non fa nulla e addirittura semmai si schiera dalla parte del bullo e sente di non poterne parlare in famiglia. Quindi questo è l'isolamento quello che determina l'aggravamento delle conseguenze, dell'impatto del cyberbullismo e anche del bullismo. Non è un problema a due, è un problema di molti a molti ed è un problema che va gestito come istruzione, cioè un problema che va gestito come educazione, non è un problema che va gestito come intervento terapeutico, non è un problema che va gestito come intervento risolutivo o con l'allontanamento. Rieccoci nuovamente in studio in compagnia di dottoressa Ilaria Abidini. Allora Ilaria, la dottoressa Romano ha detto che una nuova forma di bullismo è quella del cyber, quindi del mondo virtuale. È davvero questo tanto pericoloso? Eh sì, perché in realtà secondo me è molto peggio del bullismo, perché se te per esempio pubblichi un video, questo video viene visto, condiviso da milioni di persone. Quindi diventa virale. Sì, io per esempio sono diventata tra parentesi, non dico famosa, diciamo un po' più conosciuta, perché quando è stato un anno fa ho ricevuto tanti insulti, anche minacce di morte da parte di simpatici leoncini da tastiera che ho provveduto comunque a denunciare. Ecco, in quel caso se una persona si trova in quelle condizioni, cosa deve fare? Perché la maggior parte delle volte non si sa come affrontare il problema. Oddio, io innanzitutto reagisco molto con il sarcasmo, li prendo un po' per i fondelli, diciamo, anche perché vedo il loro simpatico italiano, molto corretto, quindi neanche la capacità di insultare in maniera corretta, però quello che posso dire è di non stare zitti, anche perché secondo me l'omertà non è la soluzione, di non tenersi tutto dentro, anche perché porta delle conseguenze, sia il bullismo che il cyberbullismo, e di denunciare il prima possibile quello che succede, anche perché da un comportamento di tipo, come posso dire, offensivo, come può essere una parola, si passa presto a delle minacce di morte, ci vuole poco. Perché poi lo scopo della trasmissione è quello di riuscire appunto a dare degli step per chi si accorge anche di ricevere il bullismo o per la famiglia stessa, che in questi casi probabilmente è quella più coinvolta, perché essendo ignara non può poi sapere come andare ad aiutare anche il ragazzo o la ragazza. Infatti quello che mi sento di dire è che spesso i genitori sottovalutano il problema, non riescono a cogliere quei campanelli di allarme che possono essere magari anche, non subito evidenti, però se tipo un ragazzo o una ragazza inizia ad andare meno a scuola, Certo, potrebbe essere. Non è sempre perché non ha voglia, magari chiediamo più spesso ai figli come stai più che cosa hai fatto oggi, oppure come ti senti, senza essere troppo assillante, però cercando di capire se ci sono dei disagi che sta vivendo in quel momento. Certo, allora, continueremo nella seconda parte poi a parlare di bullismo, tra l'altro guarderemo un servizio di un ragazzo che proprio in questi giorni è stato vittima di un assalto mediatico, probabilmente anche incontrollato. Adesso un po' di pubblicità e poi ci troviamo insieme per la seconda parte di Vivere. Ci insieme per la seconda parte di Vivere in compagnia, in questa terza puntata, dall'autoressa Ilaria Abidini, direttamente dal Bar La Meridiana di Arezzo, che ringraziamo ancora una volta per averci ospitato. Allora Ilaria, io aprirei questo secondo capitolo appunto, ascoltando il servizio che Arezzo TV ha preparato per noi, riguardante un episodio di bullismo proprio a Foiano. Buonasera a tutti, mi chiamo Gianluca Forte, vengo da un paese privo di gioie che si chiama Foiano... Un paese? Proprio di gioie. Perché non ci sono gioie, non c'è niente in quel paese. Non c'è niente. È un buco, è un buco triste e spento. È un buco triste e spento. È un buco triste e spento. Una desolazione. L'incubo di Gianluca Forte, un'andiciano venne di Foiano delle Chiane, è iniziato proprio dopo questa apparizione televisiva. Alcuni commenti indubbiamente sarcastici sul proprio paese non sono infatti andati a genio ai suoi compaesani. Alcuni di loro lo hanno infatti ricoperto di insulti e non solo, al punto che il giovane si è dovuto rivolgere ai carabinieri. Dopo l'apparizione TV hanno scritto un post in cui dovevano correre a guardare per l'appunto la puntata. Hanno iniziato con un banale tornato in alto paese che d'altro canto me lo poteva aspettare. Da lì siamo arrivati poi a auguri di morte, a darmi del terrone perché io sono napoletano, precisamente di Pompei. E così via. Poi hanno cominciato a ripostare ovunque, sono messi a parlare di cose mie private e la cosa è diventata pesante. Il giorno dopo, due giorni dopo, sono andato a scuola, ogni mattina, sono passato in panetteria, prendendo la mia pizza, ho aperto la porta. Il primo commento di un signore che non so chi sia è stato ad alta voce davanti a tutti co***e. E da lì poi hanno proseguito fino a che, insomma, non mi hanno un po' distrutto moralmente perché poi la violenza psicologica è bella tosta da sopportare. Contro di lui si è scatenata una vera e propria tempesta, social ma non solo. Un supplizio, è il termine giusto. Quello che più mi ha sorpreso sono stati i commenti da parte per l'appunto di genitori. Cioè, mi chiedo che insegnamento date ai vostri figli. Già Luca, posto infamanti alla mano, adesso si è rivolto ai carabinieri di Fogliano. Le accuse che gli sono state rivolte potrebbero infatti configurare il reato di diffamazione. Ho raggiunto il limite e non si può fare altrimenti. È l'unica arma a mia disposizione. Cercare di difendermi fin quanto mi è possibile. Cosa chiedi adesso? Cosa ti aspetti? Un po' di giustizia. Rieccoci in studio. Allora, Ilaria, Già Luca è stata vittima di quello che si può chiamare, o se si può chiamare appunto, bullismo. A metà fra il cyberbullismo, quello normale, perché lui, oltre che insulti social, li ha ricevuti anche dal vivo. Eh sì, in effetti questa storia sinceramente mi ha colpito parecchio. Anche perché spesso si pensa che il bullismo è fatto solo dai ragazzi, invece a volte anche dagli adulti. Secondo me è una grandissima vergogna quella che è successa. Cioè addirittura un paese intero che inizia a offendere questo ragazzo perché... Per una battuta fatta magari. Sì, capito? Magari non lo so, cioè a me questa cosa mi ha fatto veramente rimanere. Credo che lui sia stato anche molto forte a sopportare tutto questo. Io non lo so se avrei reagito così bene, eh, in una cosa del genere. Perché un conto è quando ti offendono degli sconosciuti su internet che è vero che fa del male perché comunque ti senti perseguitato. Però un conto è proprio uscire in paese e vedere Tizio Caio e sentire che comunque ti offende. Non ti senti più a casa tua appunto. Ecco, magari delle volte anche il peso di alcune parole che magari possono sembrare lette alla leggerezza come abbiamo visto lui al programma avanti un altro di Bonolis e poi hanno una ripercussione magari anche sulla mentalità delle persone che tendono magari anche ad affrontarle in questo modo. Eh sì, poi magari in quel caso come fai anche a denunciare? Mica poi denunciare tutto il paese? Cioè sarebbe una cosa assurda insomma. Eh, le parole il più delle volte fanno molto più male mi riprendo un attimo la frase che disse Carolina Picchio non so se la, penso la conosci la storia le parole fanno molto più male delle volte a volte anche perché comunque feriscono, ti rimangono dentro magari lì per lì uno non ci pensa però anche nei momenti in cui ti senti un po' più vulnerabile tendi a ripensarci, il cervello registra tutto quello che si sente. Ecco, data la tua esperienza anche su questo percorso su queste tematiche, cosa ti sentresti di dire a questo ragazzo? Eh io mi sento di dire intanto complimenti per il coraggio che hai avuto perché non è da tutti insomma e poi di non sentirsi in colpa anche perché non credo che lui volesse essere offensivo cioè hai fatto una battuta e l'hanno presa un po' male è brutto dirlo però piano piano questa cosa sicuramente si smorzerà insomma cioè vai avanti si contento di come sei e di quello che fai insomma. Ecco, torniamo al tuo percorso nella lotta contro il cyberbullismo e il bullismo negli anni passati, pare due anni fa sei stata premiata anche dal presidente Sergio Mattarella come Cavaliere della Repubblica che esperienza è stata? È stata che io prima cosa non ci credevo perché dico ma questa è una candy camera facevo anche perché è successo tutto all'improvviso io praticamente ero a letto che mi ero fatto male alla spalla no? E mi chiama una giornalista e mi fa ma non mi devi dire niente? Io dico ma che devo dire? Sì ho a letto è quasi un mese che sono in casa che non faccio niente, non ho combinato niente dice no perché ho sentito che ti hanno dato un'onoreficenza ma chi? È una cosa improvvisata Sì e lei mi fa ora ti richiamo quindi momenti di panico di dubbi non capivo che era successo poi mi richiamo e mi fa te lo devo dire perché se no ci dormono alla fine dice guarda ti ha dato questo noreficenza il presidente della Repubblica Mattarella ah ho fatto a me io dico sì per via dell'impegno che hai fatto per via del video che facevamo con Saverio Tommasi poi sono andata lì a Quirinale è stata un'emozione che persona è Mattarella? grandissima simpatico un po' silenzioso però poi mi è piaciuto anche conoscere tutte le altre persone che sono state premiate è stato un bel momento quando ci siamo presi tutti per mano ci siamo congratulati ecco forse l'Italia ha bisogno di più persone come voi che lottano contro questi tipi di problemi ma penso che le cose comunque stanno cambiando rispetto a tanti anni fa quando c'era indifferenza veniva detto ma tanto è una ragazzata capito oggi nelle scuole comunque ci sono tanti progetti tante cose che si possono fare per prevenire e contrastare il bullismo io penso che piano piano con il tempo comunque le cose cambieranno nel mio piccolo cerco di portare questo messaggio che spero arrivi ai ragazzi ma anche agli adulti a volte per cambiare questa società ecco una famiglia che si accorge che il suo ragazzo è vittima di bullismo o anche magari all'interno del nucleo familiare a chi deve rivolgersi? innanzitutto deve rivolgersi se è dentro cioè se nella scuola agli insegnanti oggi abbiamo la figura del referente per il bullismo perfetto cosa importante purtroppo non è la figura nata da poco sì purtroppo non è in tutte le scuole ho notato poi anche all'autorità a volte e poi io dico sempre che non è vergogna se un ragazzo ha dei disagi e magari è anche questione di autostima a volte di rivolgersi anche a un percorso psicoterapeutico io ci sono stata non sono sono ancora qui quindi insomma non è questi soprusi allora Ilaria io ti ringrazio per aver accettato l'invito alla nostra trasmissione grazie a voi per il messaggio che hai lanciato a casa che poi è questo un po' il fine per cui abbiamo creato voglia di vivere speriamo di rivederci insieme da qui al termine della nostra serie di puntate io vi ringrazio per essere con noi all'ascolto ricordiamo che per ogni segnalazione e per ogni problema comunque potete rivolgervi al remittente televisiva adesso vi lasciamo ai prossimi appuntamenti con Arezzo TV noi ci vediamo settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti